Sono 85 nuovi casi di covid in Abruzzo. Ha dato esito positivo il 2,2% dei 3855 tamponi molecolari processati nelle ultime ore, riscontrando il virus in persone tra i 5 e gli 88 anni d'età. Di queste 40 sono residenti in provincia dell'Aquila, 17 in provincia di Chieti, 16 nel Terramano e 9 nel Pescarese. Per 3 dei contagiati sono invece in corso verifiche per accertarne la provenienza. Oggi altri 6 morti, di cui un decesso avvenuto nei giorni scorsi, che portano il bilancio delle vittime a 2.434. Continua però a scendere il numero degli attualmente positivi e quello complessivo degli ospedalizzati. Considerando anche i 168 guariti, ad oggi sono 7.822 positivi in Abruzzo, 89 in meno rispetto a ieri. Di questi 281 pazienti, 26 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Mentre 28 sono i pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Gli altri 7.513 positivi accertati, 64 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Grazie. Grazie.